Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico è al momento regolare sulla rete autostradare regionale. In FIPILI restano due chilometri di goda con tendenza all'aumento per lavori tra Ginestra e la Strassigna verso Firenze. Regolare il traffico altrove. Uno sguardo alla cantieristica sulla statale 439 di Ramazione Sarzanese Valdera, tratto chiuso per lavori fino al 2 ottobre tra l'incrocio Spedaletto e l'incrocio Vicarello. Prima di salutarci in occasione del Gran Premio di Formula 1 al Mugello, segnaliamo alcuni provvedimenti di mobilità, tra i quali le chiusure sulla provinciale di Luco e su quella del passo del gioco. I provvedimenti sono in vigore fino alle 20 del 13 settembre. Muoversi in Toscana Infio è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio! Per ora è tutto, buon viaggio!